Ciao ragazzi, eccoci qua. È nuovamente quel momento dell'anno, siamo ancora in quel periodo in cui alla fine della stagione bisogna tirare le conclusioni e dato che non vi avevo ancora portato la tier list di quest'annata, perché ovviamente mi sarebbe piaciuto aspettare fino all'ultima partita per cercare di avere un quadro quanto più chiaro possibile finalmente siamo qui a poter tirare le somme, siamo qui a poter parlare definitivamente della stagione 2022-2023, una stagione difficile, una stagione complicata, una stagione brutta, un'altra stagione da zero titoli mi sono riascoltato il mio video del pagellone dell'anno scorso e mai avrei immaginato di vivere una stagione come questa in relazione a quello che erano le aspettative, in quelli che erano i ragionamenti, i pensieri della stagione dell'anno scorso ricorderete, o se non lo avete ancora visto vi invito ad andarvelo a vedere, basta una ricerca, pagellone Luca Toselli che vi dicevo che l'anno scorso non ero soddisfatto del lavoro eseguito da Allegri ma l'avrei confermato per avere una base biennale di valutazione è successo quello che è successo sul finale di stagione, siamo d'accordo, però già nella prima parte di campionato o comunque di Champions League, proprio di annata sportiva c'erano stati alcuni problemi, si parlava di mercato, si guardava a dei nomi che avrebbero potuto cambiare un po' il volto della Juventus che l'anno scorso era sembrata a tratti una squadra senza personalità è cambiato poco e niente tanti calciatori sono cambiati, tanti protagonisti non sono più gli stessi, tanti giocatori in più hanno vestito la maglia della Juventus in questa stagione perché tra giocatori che sono andati in prestito, tra giocatori che sono stati venduti, tra giocatori che sono venuti su dall'under abbiamo veramente un bel po' di giocatori quest'anno e vorrei subito iniziare a posizionare alcuni di loro nel senza voto perché non c'è la possibilità di valutare la loro stagione, ci sono stati davvero troppi pochi minuti Pinsoglio nemmeno ha mai giocato per Pogba, parla all'infortunio, anche se la scelta di Pogba di operarsi di non operarsi subito e di fare la terapia conservativa per poi andrebbe messo qui Pogba lo mettiamo in senza voto perché abbiamo ancora un cuore Zaccaria praticamente ha giocato la prima col Sassuolo qualche minuto Rovella è subentrato qualche minuto nelle prime due di campionato Barbieri ha giocato da titolare Sassuolo e Empoli due partite che sono state anche un pochino grottesche per questo non mi sento di dare una valutazione al ragazzo Caio non è ancora tornato dall'infortunio Barrenecea ha giocato un paio di partite da titolare ma non abbiamo ancora avuto la possibilità di valutarlo quindi io questi 3, 6, 7 calciatori li metto subito in senza voto perché secondo me non c'è stata la possibilità di valutarli e per concludere il tutto metto anche McKennie nel 5 perché secondo me questo è il voto più idoneo alla prima parte di stagione di Weston che poi è andato in Inghilterra ed è addirittura retrocesso con il List United io non so se avete visto il post Twitter del padre di McKennie in cui voleva ringraziare il List United e i tifosi per aver accolto il figlio con entusiasmo e gioia e ha taggato il video della morte di Arambe mi ha fatto molto ridere perché era molto decontestualizzato il tutto probabilmente il papà di McKennie non aveva molta familiarità con la tecnologia ed è finito in questo modo e quindi dicevo una valutazione generale alla Juventus e a tutti i calciatori della Juventus e a Massimiliano Allegri o Allegri se siete d'accordo lo terrei per ultimo perché mi sembra il discorso un po' più corposo un po' più da sviluppare nel dettaglio e partirei subito col botto vi dico ho tre giocatori che voglio posizionare nel podio più alto e magari ce li avete già in mente magari anche voi avete fatto la Tier List magari anche voi volete fare la Tier List quindi ve la lascio comunque qui sotto in descrizione e magari taggatemi su Instagram che poi vi riposto nelle storie e le vostre Tier List io Chesney lo metto nel podio più alto perché quest'anno veramente credo che sia stato indispensabile in più di un'occasione per cercare di salvare il risultato l'anno scorso era partito con un paio di papere che avevano condizionato i risultati lo ricorderete bene quest'anno invece c'è stato un rendimento molto alto da parte di Chesney guardavo anche un po' le pagelle degli anni scorsi Chesney è sempre stato uno di quei giocatori che si posizionava nel podio più alto e questo fa riflettere perché comunque nelle quattro annate da cui sto raccogliendo dati quindi Sarri, Pirlo, Allegri, Allegri Chesney è sempre uno di quelli che ha la valutazione più alta ed è un portiere dovrebbe farci anche un pochino pensare questa cosa e dovrebbe farci ancora più pensare il fatto che Perin per me è uno tra i migliori della stagione stiamo parlando del primo portiere che è nella lista più alta e il secondo portiere che è su un gradino sotto perché entrambi hanno fatto una stagione di altissimo livello tra l'altro se siamo arrivati in semifinali di Europa League ragazzi io credo che tanto del merito sia proprio di Chesney e di Perin che sono stati spesso e volentieri i migliori in campo insieme a Federico Gatti che addirittura ci ha cariato con un paio di gol quindi veramente stiamo parlando di due portieri che hanno aiutato un bel po' la Juventus perché anche dal punto di vista difensivo questa squadra non è proprio solidissima anzi lo abbiamo visto nei numeri poi cercheremo anche di parlare un po' più nel dettaglio di numeri della Ligue 1 dato che ormai abbiamo terminato la stagione però sicuramente questa stagione o questa annata è stata complicata anche dal punto di vista difensivo e per questo poi i portieri vengono eletti a migliori in campo quindi vorrei subito partire col botto dicendo che Chesney e Perin sono tra i migliori giocatori della stagione e poi abbiamo Leonardo Bonucci quello che è il capitano della Juventus anche se ha fatto poco il capitano in questa stagione proprio perché ha giocato poco capitano è diventato Danilo Bonucci per me è da 4,5 ha fatto una brutta stagione per quanto mi riguarda non sempre solo per colpa sua ma anche per via del fisico che in questo momento non riesce più a reggere ai livelli degli standard a cui siamo stati abituati in passato Bonucci inizia ad avere una certa età quest'anno ha tagliato il traguardo delle 500 presenze in bianco-nero ieri sera addirittura la 502 quindi stiamo parlando di un giocatore che la sua carriera l'ha già fatta ieri mi avete fatto notare che comunque c'è stato un saluto particolare di Bonucci nei confronti dei compagni qualcuno sta addirittura pensando che Bonucci possa terminare qui la sua avventura in bianco-nero io non credo ha un altro anno di contratto quindi la vedo abbastanza difficile è vero che è un anno di contratto pesante oneroso per Chesney non ne ho parlato sul canale perché poi è successo quello che è successo ma l'altro giorno mentre avevamo il J-Hotel è scattato il rinnovo automatico di Chesney e ci sarà un altro anno del portiere a circa 7 milioni di euro netti per via di quei famosi contratti che si erano fatti all'epoca di Paratici in cui c'è un rinnovo automatico per un'altra stagione però un conto è se parliamo del portiere titolare che comunque è un ingaggio fuori dai parametri standard di questa Juventus un conto è se quegli stessi soldi vengano lasciati a Bonucci e a Alexandro che hanno addirittura perso il posto da titolare e sono giocatori che stanno veramente facendo fatica in questo momento a performare su livelli accettabili per questa Juve e non sono in grado di giustificare quell'ingaggio che ripeto è difficilmente giudicabile anche per un titolare è un titolare che ha fatto una bellissima stagione quindi vediamo cosa succede sul fronte Bonucci anche il fatto di averlo visto in campo in alcune partite secondo me dove non stava proprio bene non è stato il massimo e ha contribuito a posizionarlo in un posto così basso credo che Bonucci sia stato purtroppo per lui uno dei peggiori in campo all'interno di questa stagione un altro di quelli che va nella posizione alta ragazzi è Danilo perché se da una parte abbiamo il capitano ufficiale quindi Bonucci che ha fatto una brutta stagione dall'altra abbiamo invece un leader carismatico e silenzioso che ha preso per mano la Juventus e la messa la messa lì in alto la messa lì in alto nella lista delle gerarchie delle priorità e io credo che Danilo abbia fatto non solo un'ottima stagione in campo ma anche un'ottima stagione proprio dal punto di vista mentale e motivazionale perché è stato un giocatore incredibile poi praticamente ha giocato quasi tutti i minuti giocatore insostituibile giocatore che c'è sempre stato quindi per me Danilo va assolutamente in alto è uno dei migliori tre giocatori della stagione e credo che ci sia anche poco da continuare a dire da questo punto di vista un altro guardate il pattern che si sta venendo a creare nei migliori portiere portiere difensore difensore questo significa che comunque c'è stata un po' più di tranquillità da quel punto di vista piuttosto che da quello offensivo ma lo dicevamo anche prima non è che la Juventus sia stata una squadra meravigliosa dal punto di vista del non possesso palla però breve era la prima stagione alla Juventus secondo me è stato super positivo si porta a casa il suo 7 in pagella non ha fatto una stagione buona come quella di Danilo forse anche qualche problemino fisico di troppo ma va bene così perché comunque stiamo parlando di un giocatore che passa da una condizione di giocare nel toro una condizione di giocare nella Juventus se sono palcoscenici differenti vengono richieste cose differenti e credo che comunque sia stata un'ottima prima stagione alla Juventus quindi credo che Bremere il 7 se lo possa portare a casa ripeto non ai livelli di Cesni e Danilo però un gradino sotto sì poi abbiamo Alexandro che l'anno scorso aveva valutato 4,5 io quest'anno voglio dargli 5 per un motivo credo che quest'anno Alexandro non abbia fatto una bella stagione di questo siamo tutti d'accordo ma da terzo difensore centrale da braccetto difensivo e sinistro in alcune occasioni ha portato a casa delle belle partite ha fatto delle belle prestazioni ripeto niente di impressionante però se devo fare la media con l'Alexandro che abbiamo visto terzino e sinistro o l'Alexandro che abbiamo visto l'anno scorso quelle volte che è stato impiegato da braccetto e ovviamente dentro la stagione perché poi sul finale di stagione quando veniva utilizzato lì è stato un po' una roba brutta da vedere credo che che lì si sia un po' reinventato abbia fatto delle prestazioni positive quindi non me la sento di dargli 4 e mezzo onestamente credo che 5 sia il voto più giusto per il brasiliano che come dicevamo prima per il discorso di Bonucci rimane un altro anno alla Juventus viene rinnovato ora aspettiamo il comunicato ufficiale se ci sarà parlavo l'altro giorno con Romeo Agresti e Giovanni Albanese mi dicevano che in questo caso di contratti con il più uno non è nemmeno necessario che ci sia un annuncio qualcuno sta continuando a dire ma Alexandro non l'hanno ancora annunciato proprio per questo motivo qui probabilmente magari non scatterà rinnovo anche se tutti dicono che è già stata fatta questa cosa qua l'anno scorso nelle pagelle dicevo bisognerebbe fare un passo avanti a Alexandro un passo avanti a Quadrado un passo avanti a Resciglio un passo avanti a Rugani ma non da quest'anno da qualche anno e ci ritroviamo ancora una volta nella condizione in cui tutti questi giocatori sono alla Juventus e non sembrano intenzionati a lasciarla anzi alcuni vengono pure rinnovati quindi sicuramente una situazione un po' un po' bizzarra devo dire la verità un po' bizzarra Federico Gatti Federico Gatti è il primo sei e mezzo della lista perché perché poteva forse essere addirittura nei sette devo dire la verità inizialmente l'avevo messo nei sette poi ho cercato di fare un po' di mente locale nella prima parte di stagione Gatti che era stato poco utilizzato quelle volte che scendeva in campo aveva mostrato a mio modo di vedere alcuni limiti non lo ritenevo pronto per giocare nella Juventus era una cosa normale fisiologica non aveva mai giocato nemmeno in Serie A quindi sarei stato stupito del contrario e infatti sono stato stupito nella seconda parte di stagione del rendimento di un giocatore che è diventato un titolare vero e proprio della Juventus per merito perché veramente Gatti poi ha iniziato a mettere in campo uno spirito un carattere una grinta e delle prestazioni di livello che gli hanno fatto conquistare il posto di titolare proprio di scapito di Alessandro ma vedete come è logico cioè è così che dovrebbe andare un giocatore che ha già dato tanto alla causa che ormai è qualche anno che non riesce più a rendere su quei livelli c'è un ragazzo che ha fame voglia grinta e ha la possibilità di emergere dopo una gavetta importante come quella che ha fatto Gatti e si prende il posto da titolare l'altro viene rinnovato e questo diventa il nuovo giocatore titolare da Juventus invece no noi viviamo in una concessione un po' bizzarra un po' particolare Gatti l'uomo dei gol in Europa League perché ci fa passare il turno mi pare con lo sport in Lisbona sì e poi ero allo stadio per Juve-Siviglia e fa quel gol allo scadere che ci regala quella mera illusione di poter almeno provare a vincere quella partita e arrivare in finale di Europa League anche qua scherza del destino Scezni per i negati secondo me sono i tre giocatori principali dell'Europa League insieme a un altro che vedremo un po' avanti che però mi ha un po' deluso in stagione e ripeto stiamo parlando di due portieri e un difensore centrale dovrebbe darci un po' anche la dimensione di quella che è stata la Juventus in questa stagione Rugani Rugani voto 6 secondo me siamo sempre lì Rugani nella rosa della Juve è un punto interrogativo perché stiamo parlando di un classe 94 che è tantissimi anni che è qua ma soprattutto che non è titolare e non è nemmeno un vice titolare che guadagna 3 milioni e mezzo netti all'anno questo discorso io ormai ho perso il conto non so quante volte ho già fatto questo discorso poi per me Rugani è un giocatore sempre affidabile nelle rotazioni per essere il quarto quinto difensore centrale è addirittura un lusso secondo me è un lusso però è un giocatore che non può guadagnare quelle cifre lì alla Juventus di oggi poi secondo me ha fatto delle prestazioni buone quando è stato chiamato in causa non si merita l'insufficienza si prende il suo 6 se lo porta a casa però siamo sempre di quella non è normale che ci siano degli stipendi così alti per la Juventus in quelle posizioni di non titolari non è assolutamente normale bisogna fare qualcosa ma quante volte abbiamo fatto sto discorso mille e da quanti anni tanti è cambiato qualcosa no vediamo cosa succede voto 5 a Juan Quadrado io credo che sia stata la peggior stagione di Quadrado da tanti anni a questa parte c'è stato un momento in cui sembrava aver ritrovato un pochino la condizione ma è stata secondo me una mera illusione guardavo prima le pagiade di Quadrado negli anni gli ho sempre dato dei voti alti altissimi quest'anno no quest'anno è da 5 stupisce dal punto di vista sportivo l'eventuale ipotetico rinnovo di Quadrado perché credo che proprio non ci sia la necessità di rinnovarlo stupisce meno se ragioniamo appunto sui binari che abbiamo utilizzato fino adesso per la Juventus abbiamo ribadito determinati concetti che non vanno bene ma da anni ci ritroviamo e soprattutto se iniziamo a focalizzarci su un eventuale mercato a costo zero quindi con la Juve che non riuscirà ad andare sul mercato a acquistare giocatori e quindi dovrà cercare di mantenere di trattenere quelli che potrà far rimanere la Juve perché poi sappiamo che tre sono già ufficialmente out che sono Di Maria Rabiot e Paredes quest'ultimo non verrà riscattato verrà rimandato al PSG e quindi sono già tre giocatori che devi andare a sostituire qualcun altro che venderai e magari ti vuoi tenere stretti quelli che hai però è un ragionamento secondo me in controtendenza rispetto a quella che dovrebbe essere una programmazione sportiva poi è la mia umile umilissima opinione allora abbiamo Filip Kostic sto cercando mi ricordavo bene sì era sei e mezzo è un altro di quelli che poteva andare sul sette ma siccome pesa tanto il fatto che nel finale di stagione si è un po' disattivato Kostic quando è uscito di scena Kostic dal punto di vista atletico la Juventus è calata e non poco quindi credo che sia giusto un sei e mezzo piuttosto che una valutazione più alta un giocatore sicuramente importante un giocatore che ha giocato tanto un giocatore che poi ripeto nelle ultime settimane ha trovato anche nella sua riserva che è Iling Junior e ve lo voglio mettere subito sempre come sei e mezzo un giocatore più fresco un giocatore con più energia e che quindi si è mangiato alcuni minuti di un Kostic che comunque non era ancora tornato a posto da quell'infortunio al tendine Achille subito in nazionale Iling invece è un calciatore che non mi aspettavo è stata una piacevole sorpresa per questo il sei e mezzo ha giocato decisamente meno di Kostic ha servito decisamente meno assist però bisogna anche pensare su quelle che erano le aspettative su quelle che sono state poi le possibilità adatte a questi calciatori e secondo me Iling è stato assolutamente positivo per quello che abbiamo visto per i minuti gli sono stati dedicati è stato assolutamente positivo quindi è anche paradossale l'anno scorso sulla fascia sinistra eravamo un po' in crisi c'era soltanto Bernardeschi e dicevamo beh bisogna fare qualcosa sulla fascia destra ci sentivamo un po' più coperti anche se bisognava già iniziare a ragionare sulla rete di Quadrado invece quest'anno paradossalmente al contrario non c'è mai stato un vero e proprio vice Quadrado se non De Sciglio che ha avuto mille infortuni abbiamo visto McKennie abbiamo visto Sulea abbiamo visto Chiesa invece sulla fascia sinistra mi sento un pochino più più coperto un pochino più protetto poi abbiamo Mattia De Sciglio che secondo me va nella nella posizione dei 4 e mezzo perché quest'anno ragazzi io io De Sciglio fatico a ricordare davvero delle prestazioni di livello l'anno scorso e avevo dato qualcosina di più mi pare addirittura 6 forse o 5 e mezzo una roba del genere perché pesava anche quel gol davvero pesantissimo scusate la ripetizione all'Olimpico di Roma quest'anno oltre all'infortunio è purtroppo un ragazzo della mia età quindi non oso immaginare cosa stia passando perché almeno io personalmente inizio a sentirmi vecchiotto quindi secondo me anche nella testa di Mattia sta passando la stessa cosa ma tante volte quando l'abbiamo visto titolare abbiamo visto un giocatore che veniva messo lì e basta che non provava lo spunto non provava la giocata non provava veramente niente di diverso sembrava sempre essere in due dimensioni piuttosto che in tre dispiace perché è un altro di quelli che è qua da tanti anni è un altro di quelli che l'anno scorso è stato rinnovato con un grosso punto interrogativo io l'anno scorso ne uscivo con una riflessione e dicevo la Juventus secondo me dovrebbe fare un passo oltre a De Sciglio è anche vero che negli ultimi anni non è più la Juventus di prima e se De Sciglio una volta era una riserva e forse poteva starci come probabilmente no come riserva oggi la Juventus si è indebolita e forse allora anche De Sciglio ci può stare in questa Juve non è tanto il prima De Sciglio quanto più i titolari che non sono affidabili questa riflessione è condivisibile anche oggi ripeto altro di quei giocatori che fatico a capire come possa essere ancora la Juventus altro di quei calciatori che secondo me bisognerebbe cercare di salutare ci sono tante facce che vediamo da troppi anni eppure rimangano lì e poi abbiamo il terzo miglior giocatore della stagione Adriel Rabiot forse poteva meritare un 8 in solitaria sono sincero tra Danilo Shesny e Rabiot Rabiot è quello che ha fatto la stagione migliore però credo anche che poi abbia avuto una leggera flessione nel finale e quindi vada un pochino a livellarsi però ribadisco poteva tranquillamente essere un 8 perché è stato un giocatore di rivelazione è stato il calciatore che ha aiutato più la Juventus dal punto di vista della costruzione della presenza in mezzo al campo della realizzazione degli assist serviti cioè è stato un Rabiot ragazzi quest'anno come mai l'avevamo visto e io mai mi sarei immaginato un Rabiot di questo tipo qua veramente mai mi sarei immaginato un Rabiot di questo tipo qua giocatore dominante come dicevamo prima però giocatore del quale dovremmo fare a meno l'anno prossimo perché senza la Champions League Rabiot in scadenza di contratto si sta guardando intorno sta guardando altre altre squadre presto firmerà un contratto con un nuovo club che potrà garantirgli ambizione e soldi quindi questo è l'ultimo ballo di Rabiot mai avrei immaginato di ritrovarmi a commentare una stagione con Rabiot miglior giocatore della Rosa ma questo è successo e dopo 4 anni di Adriana alla Juventus un grosso punto interrogativo su questo giocatore secondo me rimane che nelle prime stagioni sembrava anzi nella prima stagione sembrava un punto interrogativo compirlo qualcosina sarà visto l'anno scorso esterno nel 4-4-2 storto sembrava un pesce fuor d'acqua e quest'anno invece ha fatto una stagione di altissimo livello con la maglia della Juventus quindi grosso punto interrogativo dal punto di vista del rendimento di questo calciatore qua ora Locatelli so che farà discutere io ve lo metto nel 6 so che qualcuno non sarà d'accordo ho visto altre pagelle di altre persone che lo mettevano più in basso non ho visto nessuno metterlo particolarmente più in alto io su Locatelli ho sempre la mia posizione che ho già espresso in tante pagelle secondo me sei perché è un po' la media tra il buon lavoro che fa dal punto di vista difensivo e il pessimo lavoro che fa dal punto di vista dell'organizzazione dell'impostazione perché non gli viene richiesto perché non è quello che Allegri chiede al giocatore che viene messo lì è un giocatore più di ordine più di quantità che di qualità io soffro sinceramente nel vedere un'uscita così sporca della Juventus in quella posizione di campo soprattutto perché credo che Locatelli abbia pure la possibilità di fare un'uscita più pulita nonostante secondo me non sia un regista ma sia un mediano sia assolutamente un mediano che possa essere un mediano da 4-3-3 quindi 3 centrocampisti o 4-2-3-1 quindi 2 centrocampisti ma Locatelli è un mediano è un giocatore di quantità che comunque ha una buona qualità di base non è Pirlo cioè bisogna togliersi dalla testa che Locatelli possa essere paraganato a Pirlo cioè non c'entra veramente nulla assolutamente nulla e quindi secondo me Locatelli ha fatto una buona stagione dal punto di vista del contenimento è una pessima stagione dal punto di vista dell'impostazione ma ribadisco sono concetti che non gli vengono richiesti e quindi come potrebbe poi realizzarli è un cane che si morde la coda poi ripeto secondo me Locatelli è il giocatore un po' più discutibile di questa stagione ma vediamo vediamo un po' che cosa ne pensate anche voi Niccolò Fagioli ancora una volta il pattern portiere difensore centrocampista si completa Serrabiou è il miglior centrocampista della stagione Fagioli è il secondo perché Fagioli è stata veramente una scoperta di assoluto livello un giocatore che ha dimostrato di essere pronto per giocare la Juventus mai avrei immaginato inizio anno di posizionare Fagioli lì quando è stato ceduto Zaccaria e non ero proprio felicissimo della cessione di Zaccaria per un discorso di coerenza di progetto vi dicevo che l'unica buona notizia era che comunque Fagioli sarebbe rimasto la Juventus a giocarsi le sue carte e se le giocate alla grandissima veramente alla grandissima la nota più positiva secondo me di questa stagione la Juventus proprio perché è un giocatore da quale non ti aspettavi un rendimento così alto ed è un giocatore che al primo anno alla Juventus il primo anno di Serie A è riuscito a consacrarsi e quindi ha delle qualità segno che comunque dall'Under 23 qualcosa di buono può uscire a quanto pare dato che spesso e volentieri si parla di giocatori di Under 23 come giocatori scarsissimi che mai diventeranno forti e no invece ragazzi la Juventus da quel punto di vista lavora bene ora bisogna cercare di incastrare un meccanismo per cercare di migliorare anche questa catena che porta questi giocatori in prima squadra farli arrivare e credere davvero in loro mi dispiace che due partite chiave della stagione se ne erano state giocate con Fagioli in panchina sono Napoli Juventus 5 a 1 Juventus Sevilla 1 a 1 a Napoli poi entra col Sevilla fa 0 minuti non lo so sono quelle cose che mi lasciano perplesso nella gestione di Fagioli da parte dei Ligri quest'anno perché stavamo parlando di un calciatore che ripeto ha fatto una stagione molto buona e in quelle partite lì sarebbe stato utile secondo me sarebbe stato molto utile al posto di McKennie a Napoli che sarebbe stato ceduto dieci giorni dopo al posto di Miretti con il Sevilla che forse non era pronto per giocare una semifinale di Europa League poi sono sempre mie oneste opinioni vediamo un attimo Moto 4 a Paredes non ci giro troppo intorno credo che sia stato il peggior giocatore della stagione in campo e anche fuori dal campo personalmente non mi ha lasciato chissà quale legame non sarà riscattato sono contento di questo non l'avrei preso avrei valorizzato Rovella ricorderete i video di inizio anno però ovviamente quando poi è una mia opinione arriva il giocatore dico va bene fammi vedere che mi sono sbagliato invece purtroppo Paredes non ci ha nemmeno provato secondo me non ha nemmeno provato a mostrarci di poterci stare ed è un bel peccato 5 e mezzo Miretti ricorderete lo slogan di inizio anno gioca Miretti perché è la meritocracia legata ai giovani inizio anno Miretti aveva iniziato molto bene secondo me poi è scomparso dai radar proprio perché dopo quell'errore con il Benfica Allegri l'ha un pochino tagliato fuori dalle rotazioni e dalla posizione di titolare fino ad arrivare al punto in cui al via del mare di Lecce Niccolò Fagioli inventa quel gol a Del Piero quella giocata clamorosa rimane dentro le rotazioni poi Miretti ha faticato a ritornare dentro c'è sempre da sottolineare una cosa Miretti ha due anni in meno di Fagioli Miretti è un classe 2003 Fagioli è un classe 2001 hanno caratteristiche diverse Fagioli è un giocatore più di classe Miretti è un giocatore forse più da inserimento un giocatore che ama più gli ultimi metri probabilmente anche se l'anno scorso quelle partite sul finale di stagione dove l'abbiamo visto davanti alla difesa a me non era dispiaciuto davanti alla difesa a dettare i tempi di gioco anche se per me non è quello il suo ruolo come non è quello di Fagioli perché secondo me Fagioli davanti alla difesa perde tanto del suo potenziale quindi queste sono un po' le considerazioni su Miretti alla prima stagione vera da giocatore della Juventus credo che 5,5 sia il voto più giusto così come secondo me 5,5 è il voto giusto per Sule ha avuto qualche opportunità quest'anno è stato utilizzato un po' di campo che non gli competono ripeto esterno nel 3,5,2 mi pare con la Cremonese la prima partita dell'anno a gennaio col Napoli in raddoppio su Kvarascheia insieme a Quadrado per cercare una sorta di mezzala iberdo mezzala esterno l'abbiamo visto credo in un paio di occasioni in attacco e tra l'altro nemmeno come esterno attacco bensì come seconda punta alle spalle di una punta quindi è difficile valutare la stagione di Sule che poi in questo momento sta giocando il mondiale under 20 peccato perché secondo me l'arrivo di Di Maria doveva essere finalizzato a migliorare appunto Sule e a renderlo più pronto invece non è stato così e anche qua Di Maria io ragazzi ve lo metto nel 5,5 io Di Maria ve lo metto nel 5,5 anche se so che non merita 5,5 Di Maria io lo so che non merita 5,5 Di Maria perché Di Maria ha fatto una parte di stagione in cui ha veramente trascinato la Juventus dal mondiale in poi c'è stato un mese e mezzo 40 giorni 50 giorni di Di Maria di alto livello di altissimo livello però io non posso pensare che un giocatore come Di Maria mi possa giocare 40-50 giorni in una stagione perché la prima parte di stagione è stata disastrosa disastrosa da parte di Di Maria è stata disastrosa da parte di Maria la prima parte della stagione la seconda parte è iniziata bene per poi terminare male me dispiace tanto perché Di Maria mi ha deluso perché da Di Maria mi aspettavo tanto perché sono sempre stato un fan di Di Maria e vederlo così mi dispiace devo dire la verità mi dispiace una storia che si conclude qua una storia che poteva finire meglio secondo me poteva continuare meglio poteva essere tutta un'altra storia però il calcio vede anche queste cose qui e quindi secondo me Di Maria è da 5,5 poteva fare decisamente di più era l'unico uomo in grado di cambiare il volto di questa Juventus piatta a volte proprio perché era il campione che era stato richiesto dall'allenatore l'anno scorso in grado di metterci quella personalità in più e quando ho avuto voglia di mettercela si è vista veramente la differenza io do 6 anche a chiesa semplicemente perché non mi aspettavo sinceramente tanto di più da chiesa post infortunio sapevamo che sarebbe tornato tardi è tornato intorno a dicembre ha avuto un infortunio molto brutto ha avuto anche bisogno di tempo per ritrovare un pochettino il contatto con il campo poi l'abbiamo visto esterno a destra nel 3-5-2 l'abbiamo visto seconda punta praticamente l'abbiamo visto pochissimo nella sua posizione naturale gli ultimi due gol della stagione sono firmati Federico Chiesa ieri sera con l'Udinese a Empoli una sconfitta per 4-1 segno che comunque il giocatore stava iniziando a ritrovare un pochettino in Coppa Italia il suo volo al Monza tanti assist alcune sgasate pian pianino sta ritrovando la sua forma è ovvio che questa stagione non poteva essere altro che una sorta di di allenamento di palestra per Federico Chiesa sperando che possa venire l'Iventus sperando che l'anno prossimo si possa tornare a vedere il Federico Chiesa che ci aveva fatto innamorare il primo anno compirlo e ovviamente durante l'Europeo vinto con l'Italia perché è un altro giocatore si vede palesemente però anche Del Piero dopo quell'infortunio lì ci mise un attimino a ritrovare la sua condizione e non aveva assolutamente lo stile di gioco di Federico Chiesa anzi secondo me sei pure a Moise Ken perché credo che il suo l'abbia fatto tranquillamente giocato il suo poco quel suo poco che ha giocato i suoi gol gli ha fatti Ken ha sempre questa media minuti gol segnati davvero clamorosa è qualcosa di impressionante quindi io lo metto lì poi è un giocatore che probabilmente non vale la cifra che la Juventus ha investito su di lui probabilmente in questo momento Juventus sta pensando a come rientrare da quell'investimento molto complicato parlare di Ken non è un titolare spesso e volentieri è stato visto come un giocatore da buttare nella mischia gli ultimi dieci minuti però rispetto all'anno scorso credo che abbia fatto una stagione più matura Moise Ken che a tratti addirittura nel finale di stagione dopo il rientro dell'infortunio sia stato il giocatore più in forma della Juve questa è la mia opinione ovviamente non stiamo parlando di un giocatore fenomenale ma di un giocatore che comunque secondo me il suo per quanto ha giocato quest'anno l'ha fatto Milik 6 anche il discorso di Ken l'anno scorso parlavamo di Ken che veniva acquistato l'ultimo giorno di mercato al posto di Ronaldo e un conto è se i titolari sono di Bale Morata e il primo cambio è Ken ma quest'anno c'era Di Maria c'era Chiesa c'era Vlaovic c'era Milik e poi c'era Ken quindi è un insieme di giocatori in cui Ken fa parte del pacchetto Milik si è preso un buon posto secondo me alla Juventus una buona parte di Juventus perché comunque il suo secondo me il suo l'ha fatto secondo me Milik il suo l'ha fatto poi poteva fare decisamente meglio per quanto mi riguarda poteva fare decisamente di meglio nella prima parte di stagione è stato importante nella seconda parte di stagione è un po' scomparso per questo credo che il 6 sia il voto più adatto un giocatore che comunque si può riscattare a poco pochissimo io non perderei l'occasione di farlo giocatore che io l'anno scorso sinceramente non volevo è un po' il discorso che facevo di Paredes poi quando arrivano io mi metto a disposizione e se mi fanno cambiare idea mi fanno cambiare idea Milik me l'ha fatta cambiare l'idea mi sarebbe piaciuto più Depay è arrivato Milik va bene vediamo cosa è in grado di fare e Milik nella prima parte di stagione è stato molto importante poi è venuto un po' meno e questo è un peccato Dujan Braovic voto 5 voto 5 ed è pesante dire voto 5 è un giocatore che comunque ha segnato 10 gol in campionato ora non ricordo se è il capo canone della Juventus ma mi pare proprio di sì non ho verificato questa cosa ma mi pare di sì e comunque si becca 5 secondo me ci sono delle responsabilità da parte dell'allenatore vi ho già fatto mille volte questo discorso ma credo anche che Dujan ci abbia messo del suo può essere un giocatore sacrificabile non che io lo voglia sacrificare anzi io lo vorrei trattenere alla Juventus però capisco il ragionamento di non sono nemmeno in Champions non sono nemmeno in Europa League arriva il Bayern Monaco di turno dato che si è comunque parlato di questa cosa e ne parleremo e magari il giocatore vuole prendere al volo questa opportunità e la Juve ha bisogno di denaro fresco e quindi si cede Vlaovic peccato perché pensare che questo ragazzo arriva un anno e mezzo fa con grande entusiasmo e alla fine della prima stagione completa in bianco nero è una stagione deludente dal punto di vista fisico dal punto di vista realizzativo dal punto di vista del rendimento poteva fare tanto di più si poteva fare tanto di più con Vlaovic e credo che questo sia un discorso collegato a Massimiliano Allegri che per me si becca a 4 e mezzo ve lo dico proprio tranquillamente per me Allegri era da 4 in questa stagione secco gli ho dato mezzo voto in più perché gli riconosco la gestione nel momento difficile proprio nell'attimo in cui accade il patatrac si rimette la dirigenza ci sono tutte queste secondo me Allegri è stato molto bravo a prendersi mano alla squadra però poi questa cosa non è durata fino all'ultima giornata anzi quando ci hanno redati 15 punti la Juventus è completamente implosa credo che Allegri abbia perso un pochettino la squadra dalle mani a me dispiace anche che poi si debba sentire a fine anno che la Juventus ha fatto 72 punti contro i 70 l'anno scorso quindi si è migliorato in classifica che se si è arrivati in semifinale di Europa League se si è arrivati in semifinale di Coppa Italia come se fossero cose quasi da vantarsi ma questo non può essere un vanto per la Juventus per la Juventus questo non può essere un vanto mi dispiace mi dispiace perché perché un allenatore come Allegri che ha sempre parlato di vittoria si inizia a parlare di queste cose qua significa che secondo me è arrivato a un punto di non ritorno nel quale deve cercare di giustificare cito un commento che ho ricevuto su Twitter prima da parte di Stecca che mi diceva no scusate di Scogna che mi diceva se tu fossi John Elkan pagheresti i 40 milioni per esonerare Allegri che comunque ha portato dei risultati che comunque nel momento di difficoltà è riuscito a portare l'eventus sul campo in Europa io non credo che questi siano risultati ragazzi io non credo che questi siano risultati anche perché mi sembra un pochettino la filosofia del ragazzo che non fa niente per tutta estate poi arriva le due settimane prima dell'inizio della scuola alla fine delle vacanze che inizia a fare tutti i compiti la Juve di Allegri è stato questo nella prima parte della stagione ma sì dai tanto c'è tempo al massimo recuperiamo e poi quando ha iniziato a recuperare è successo anche questo casino extracampo che secondo me non si può non citare all'interno delle valutazioni generali che però si partiva da una base già alterata io credo che sia necessario cambiare allenatore io credo che Allegri abbia delle grosse responsabilità quest'anno perché comunque lui nella sua analisi mi parla soltanto della gestione del momento difficile mi parla dei risultati in un momento difficile mi parla di queste cose qui non mi parla di campo non mi parla di quello che si sarebbe potuto migliorare lui semplicemente dice si poteva far meglio sì forse sì o forse no perché comunque il momento era difficile io credo che sia necessario io credo che sia assolutamente necessario credo che ci sia delle grosse responsabilità proprio dell'allenatore ma perché perché prende in considerazione un progetto biennale e in questo progetto biennale ci siamo ritrovati a dire bene o male le stesse cose in quasi tutte le partite se non alcune in cui sono andate un po' peggio alcune che sono andate un po' meglio ma lo standard è sempre stato quello se non in un momento particolare di questa stagione dove io ho visto una crescita della Juventus perché iniziava a segnare più gol a correre più ma perché? perché stava meglio dal punto di vista fisico e questo è troppo poco come dicevamo prima per Di Maria questa roba è troppo poco io l'anno scorso vi dicevo per me Allegri ha fatto una brutta stagione ma ne ne darei un'altra per vedere se riesce a migliorarmi determinate cose termine anche di questa stagione sì lo so anch'io ci sono state le difficoltà me ne rendo conto è evidente ne abbiamo parlato un milione di volte ma io anche prima delle difficoltà non ho visto un allenatore che aveva in mano la squadra un allenatore in grado di potermi far fare determinate cose no non l'ho visto ho visto un uomo molto colpito dalla situazione che poi ha cercato di fare il meglio possibile per la squadra e che secondo me nella parte finale di stagione ha pure perso la presa che aveva nei confronti dello spogliatoio io in questo momento sono abbastanza convinto che lo spogliatoio non sia più contento di essere allenato da Massimiliano Allegri mettere insieme tutte queste cose e non abbiamo ancora parlato della Champions ragazzi all'interno di questo ragionamento nemmeno è stato fatto il discorso generale sulla Champions boh io sinceramente non vedo motivi per andare avanti qualcuno l'altro giorno mi chiedeva ma perché non fai un video anche sui pro di andare avanti con Allegri ragazzi ma perché sinceramente in questo momento non ne vedo io non vedo pro di andare avanti con Allegri e lo dico al termine di due anni di due anni e lo dico dopo che nel primo anno vi dicevo non sono contento ma vediamo un altro anno come va diamogli la possibilità di mostrarci se è stato un anno sfortunato oppure no e ripeto sentirmi dire sì però abbiamo migliorato perché l'anno scorso 70 quest'anno 72 capisco le difficoltà capisco quello che è successo fuori ma io non non ho visto una Juve diversa prima di quella roba lì non l'ho vista non ho visto nemmeno la volontà di cercare di far arrivare una Juve diversa e di aiutare il tifoso a rimedesimarsi a rinnamorarsi anche del guardare la partita perché ragazzi in quante occasioni siamo stati qui nei post partita a dire oh meno male è finita che sofferenza mamma mia che ansia cioè francamente dopo due anni anche basta mi piacerebbe mettermi qua e dire d'accordo si può vincere si può perdere però sono convinto che scendano in campo con la volontà di andare a bombardare la porta degli avversari sono convinto che scendano in campo con la volontà di far cagare addosso gli avversari di venire a giocare all'Allianz sono convinto che scendano in campo con la volontà di provare a intimorire non che qualsiasi avversario possa venire qua a casa nostra o a casa loro e dire vabbè o sai cosa oggi proviamo a fare il risultato con la Juventus sai cosa loro li ballano gli fanno fatica a costruire gli fanno fatica a fare gol quindi cerchiamo queste cose io me le voglio anche lasciare alle spalle dopo due anni dopo due anni non credo che possa essere il discorso dei 40 milioni l'attenuante anche perché ripeto qualcuno poi me lo scrive nei commenti ma io non so quante volte ho già detto sì questi 40 milioni sono già stati stanziati sono già a bilancio perché chi allegri completi questi due anni di contratto chi allegri non completi questi due anni di contratto quei soldi lì glieli devi dare cioè non c'è una posizione in cui se tiene allegri non lo paghi no se tiene allegri lo paghi lo stesso se sono allegri lo paghi lo stesso quindi se lui non accetta una buona uscita e a questo vi rimando al video di stamattina non puoi fare altro che pagarli e l'unica cosa che cambia è che al massimo devi aggiungere altri soldi per un altro allenatore e il nuovo staff tecnico ragazzi 40 minuti di pagellone era prevedibile abbiamo dovuto parlare di tante cose questo è il mio pagellone finale spero che siate d'accordo con me fatemelo sapere qui sotto nei commenti e fatemelo sapere con un tag su instagram a una storia con le vostre valutazioni dato che comunque vi dicevo che ci sono due o tre giocatori che secondo me saranno chiacchierati e discussi anche qui sotto nei commenti un abbraccio e ci vediamo nel pomeriggio se cambia qualcosa